Sono 54 i comuni chiamati ad eleggere in Puglia il primo cittadino, seggi chiusi alle 15 e diretta no stop su Antena Sud con collegamenti e approfondimenti dai vari comuni pugliesi. La Gazzetta è viva e si batterà contro ogni speculazione, lo hanno detto a gran voce, scritto su un volantino e giornalisti che si sono radunati a Bari per un flash mob. MSC anche nel 2022, la società continuerà a fare scalo settimanale a Taranto, la compagnia croceristica, sottolinea il primo cittadino, ha investito sulla città ionica e sulla grande capacità delle istituzioni di fare sistema. Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antena Sud, ancora pochi minuti per il voto, alle 15 si chiuderanno i seggi, bassa l'affluenza nella giornata di ieri, se si fa il confronto con cinque anni fa, dove però il voto si faceva in una sola giornata, invece quest'anno spalmato in due giorni, questi dunque i risultati alle 23 di ieri sera dell'affluenza. Sono 54 comuni con circa 600 mila i pugliesi chiamati ad eleggere il proprio primo cittadino, urne aperte fino alle 15 e poi alcuni comuni potranno festeggiare, mentre altri dovranno attendere il pallottaggio come Adelfia, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Trigiano, Fasano, Cerignola, Sanicandro Garganico, Gallipoli, Nardò, Ginosa, Grottaglie e Massafra. Intanto il primo dato che emerge dal primo giorno di votazioni è l'affluenza, bassa rispetto alle elezioni di cinque anni fa. C'è da dire però che nel 2016 si votava con la formula dell'Election Day una full immersion dalle 7 alle 23. Rispetto allo scorso anno mancano alcuni capoluoghi di provincia al voto e il traino delle regionali. A Bari nella giornata di ieri ha votato il 47,23% della popolazione, la maggiore affluenza si è registrata a Noicattaro, mentre quella più bassa a Sanicandro di Bari. Nella Bat sono solo due i comuni chiamati al voto, alle urne si sono recati il 50,50% della popolazione a Minervino Murge e il 52,37% a Spinazzola. Nel Brindisino ha votato il 47,26% degli aventi diritto con Cellino San Marco che registra è il numero più alto e Cisternino il più basso. A Foggia le 23 aveva votato il 42,26% con l'affluenza più bassa rispetto alle altre province. Vieste il comune con la minora affluenza, mentre Candela la percentuale più alta. In provincia di Lecce ha votato quasi la metà della popolazione aventi diritto con Sanarica in testa con il 62% e Taurisano in fondo alla classifica con il 38%. Chiude Taranto con il 47,97% con Monteparano che ha la percentuale più alta, mentre quella più bassa San Giorgio Ionico. E alle 14,50% Antenna Sud aprirà una finestra non stop per raccontarvi in tempo reale i risultati. Al timone, il direttore di Antenna Sud Gianni Sebastio. Buon pomeriggio direttore. Ciao Paolo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Dunque dicevi bene, abbiamo messo in moto la nostra macchina organizzativa che partirà alle 14,50% circa con collegamenti su tutto il territorio regionale per tenervi informati minuto per minuto su quello che sarà il voto perché lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Quindi ancora qualche minuto come dicevi e poi tutto sarà compiuto. E' stata una campagna elettorale complicata, anche le operazioni di voto, si sono verificati anche fatti di cronaca come le presunte foto scattate alle schede elettorali a Gallipoli, a Fasano dove sarebbe stato denunciato anche un'ultra sessantenne di pezzi di greco e poi gli episodi che sono avvenuti nell'Assalento e nel Tarantino di auto incendiate e a tutto ciò si aggiungono i fatti di presunta violenza verificatisi a Nardò. Dunque 54 comuni in Puglia vanno al voto ma non è tutto, è una consultazione elettorale importante anche sul fronte politico perché ci sono ben sei capologhi di regione che andranno al rinnovo del Consiglio Comunale, tra questi Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna e poi come se non bastasse verrà eletto oggi anche il Presidente della Regione Calabria e poi ci saranno le elezioni supplettive di due collegi della Camera dei Deputati, Siena e Roma Prima Valle. Insomma tutto ve lo racconteremo in diretta su Antenna Sud tra poco con un enorme sforzo del gruppo editoriale Domenico Distante per garantire sempre quella che è la nostra mission ovvero la TV di servizio. A te Paolo. Grazie direttore. Noi continuiamo con il telegiornale. Al via una nuova fase della campagna vaccinale in Puglia ok alle somministrazioni simultane tra anti-covid, anti-influenzali e altri. L'area del vino. La Puglia si avvia la terza dose di vaccino anti-covid secondo le intenzioni dell'assessorato alla sanità che sta definendo i dettagli operativi per quella che viene chiamata una nuova fase della campagna vaccinale. Si parte dai più fragili mentre si avvia contemporaneamente anche la campagna contro l'influenza. Il Comitato Tecnico Scientifico ha superato le indecisioni della Federazione Nazionale Medici sulla somministrazione simultanea dei due vaccini e si procederà senza esitazioni. L'obiettivo fanno sapere quello di recuperare ora la platea di indecisi e diversi punti percentuali di copertura per le vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza che sono state trascurate durante i picchi pandemici. Anche in questo caso la circolare appena emanata dal Ministero della Salute sancisce la possibilità di somministrare nella stessa seduta qualsiasi vaccino insieme a quelli contro il covid-19 tranne quelli vivi e attenuati, ossia esclusi quelli per il morbillo, parotite e rosolia. Si accelera dunque l'avvio della campagna contro l'influenza in Puglia in modo che gli ultraottantenni e altri soggetti fragili, oggi target della vaccinazione anti-covid, possano usufruire di questa opportunità, si precisa ancora dall'assessorato regionale per la sanità. Allo stesso modo, mentre si recuperano le vaccinazioni dell'adolescenza, come quelle contro il meningococco e il papillomavirus, si intende dare la possibilità ai ragazzi di vaccinarsi anche contro il covid-19, se non lo avessero già fatto. MSC premia la città di Taranto e continuerà con lo scalo settimanale. Soddisfazione da parte del sindaco Rinaldo Melucci, sentiamo. Anche per il prossimo anno la MSC Seaside farà scalo settimanale a Taranto, ad annunciarlo il manager della compagnia per Francesco Vago durante la cerimonia di consegna del Falanto Awards. La compagnia croceristica ha investito sulla città di Taranto, grazie anche alla collaborazione del comune e dell'autorità portuale, che hanno offerto le condizioni ideali per il consolidamento del ruolo della città come destinazione turistica. Il sindaco di Taranto Melucci ha consegnato inoltre nelle mani di Leonardo Massa, manager director della MSC Crociere, il Falanto Awards, riconoscimento che l'autorità di sistema portuale del Marioni o Porto di Taranto consegna a soggetti pubblici e privati che hanno fiducia sulle potenzialità dello scalo ionico. Le crociere si sono dimostrate capaci di guidare la ripartenza del turismo, non solo laddove la loro presenza era già fortemente radicata, ma anche in quei territori con un potenziale turistico inespresso, tra cui Taranto appunto. Le crociere possono svolgere anche in territori inediti un ruolo cruciale dal punto di vista sia delle ricadute economiche dirette e indirette, sia nel marketing e della comunicazione. Grazie alla loro, alla vostra lungimiranza, MSC Crociere ha potuto creare una partnership con questa città e il suo territorio per portare, anche grazie al nostro protocollo, un turismo sano e virtuoso che ha contribuito alla ripartenza dell'economia locale e sta gettando le basi per un solido futuro. Diversi incidenti stradali nelle ultime ore, siamo in Salento dove ha perso la vita nella notte un 33enne. Un volo di diversi metri dopo lo schianto con la moto è morto sul colpo Alessio Beccarisi, 33enne di Galatina. L'incidente è avvenuto nella notte sulla strada provinciale 90 che collega Galatone a Santa Maria al Bagno. Un incidente autonomo la cui dinamica è il vaglio delle forze dell'ordine. Beccarisi viaggiava in sala alla sua moto di grossa cilindrata. Quando è avvenuto l'incidente in un tratto rettilineo potrebbe aver incontrato un ostacolo improvviso, aver perso il controllo per la velocità. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme dopo aver visto la moto sul posto e giunta un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per i rilievi sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Galatone. Su disposizione del pubblico ministero di turno la salma è stata restituita alla famiglia. E poco fa un altro incidente stradale sempre in Salento e di un morto e due feriti, uno dei quali in fin di vita è il bilancio dell'incidente avvenuto sulla provinciale 335, la circonvallazione che collega la zona industriale di Trecase a Tigiano, due le auto coinvolte nello scontro frontale, una Fiat Punto e una BMW. La vittima è il conducente della Fiat Punto sul posto a garabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118, anche una nostra truppe sul posto. Vi racconteremo quanto è accaduto pochi minuti fa nel corso delle edizioni provinciali. Un giovane avvocato Brindisino ha perso la vita a Milano in un incidente stradale avvenuto nella scorsa notte. La notizia ha provocato profondo cordoglio in città. Sentiamo perché. Ha provocato profondo cordoglio la morte di Emanuele Guadalupi, l'avvocato Brindisino di 35 anni, che ha perso la vita nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre a Milano, mentre si trovava in sella una moto. Pochi particolari sull'incidente, ma pare che Guadalupi in quel momento fosse solo e che non ci siano altri veicoli coinvolti nella tragedia. Il professionista era il figlio minore di Vincenzo Guadalupi, ex vicesindaco e assessore del Partito Socialista, e nipote di Mario Marino Guadalupi, uno dei più importanti parlamentari Brindisini del dopoguerra, cui è dedicata la sala conferenza del Palazzo di Città. Centinaia di messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia nella giornata di domenica, quando la notizia del tragico incidente si è diffuso in città. Società sportive, amici di lunga data, dei genitori e i tanti che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare Emanuele come uomo e come professionista. Prima di chiudere il bollettino epidemiologico, 8.021 test effettuati, 64 quegli risultati positivi in Puglia, una persona deceduta, in provincia di Bari sono 4 positivi, nella BAT 5, Brindisi 6, Foggia 20, Lecce 24, Taranto 4, 0 fuori regione, 1 in via di definizione, questo per quanto riguarda le ultime 24 ore. 2.593 le persone attualmente positive, 150 ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. Qui ci fermiamo, ma dopo la pubblicità ritorniamo con le notizie.